Buonasera a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Una pillola video, un breve videocorso dedicato in particolare ai colleghi di lettere, scuola secondaria di primo grado, ma anche una risorsa aperta a chi desideri sperimentare online, per la DAD e per la DD, l'analisi grammaticale e l'analisi logica. Basta un sito web, nulla da installare, attenzione bene, guardiamo nella barra degli indirizzi del browser, analisi-logica.it, ok? Poi vedete l'url, quindi l'indirizzo prosegue con slash strumenti slash analizzatore-logico. Semplicissimo da utilizzare e rapido, un box bianco al centro dentro il quale andiamo a fare un click digitando la nostra frase. Una piattaforma, in realtà un sito web, in questo caso, semplice per far esercitare i ragazzi. Io ho mangiato una pizza da Luca. Punto. Clicchiamo su analizza. Dopo alcuni istanti andiamo a vedere. Analisi grammaticale pronta. Io ho mangiato una pizza. Vedete articolo, nome comune, preposizione. sotto l'analisi grammaticale abbiamo l'analisi logica, soggetto esplicito, predicato verbale, complemento oggetto. Quindi un modo per ripassare, utile da proporre in presentazione schermo se ci troviamo appunto in un contesto di DAD o magari, perché no, da fare anche in presenza con un sistema semplice ed alternativo ai consueti. Alla prossima vi do già appuntamento sin d'ora con un nuovo videocorso e ciao a tutti e a tutte da Andrea Cartotto.